Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune editore del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si sono registrate 12 nuove guarigioni, certificati invece 9 casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 93 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune editore annunziata invece non si è registrato nessun nuovo caso di contagio, a fronte di 71 tamponi processati. Al contempo si certificano anche 5 guarigioni. Scende a 57 il numero dei cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 47.930. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.547, il 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.383, il 64%.